Sono sei le regioni che il 20 e 21 settembre andranno al voto e, come abbondantemente scritto in queste settimane, la posta in gioco è alta. Il governo giallorosso si gioca molto del proprio futuro, dal momento che una debacle elettorale dei Mepentastellata rischia di avere gravi effetti sulla tenuta dell'esecutivo, soprattutto in relazione a un exploit del centrodestra, che potrebbe strattare alla sinistra persino la Toscana. Delle sei regioni chiamate a scegliere il nuovo governatore, quattro già virtualmente assegnate. Il leghista Luca Zaia si confermerà in Veneto con percentuali attorno al 75%, e Giovanni Totti lidere fondatore di Cambiamo. Resterà il presidente della Liguria per il centrodestra. Alla coalizione Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia anche le Marche, dove Francesco Acquaroli almeno stando all'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto e davanti di 10 punti sul Dem Mangialardi. In Campania, invece, Vincenzo De Luca viene registrato saldamente avanti rispetto a Stefano Caldoro. La partita più importante, come noto, è quella che si gioca in Toscana. Regione rossa per eccellenza insieme all'Emilia Romagna, la Toscana potrebbe vivere una svolta storica. Dopo 70 anni di governo di sinistra, la regione che si affaccia sul Tirreno potrebbe passare al centrodestra. Di ieri un sondaggio di Wimpole Cheese realizzato per il sole 24 ore che dall'esponente del carroccio Susanna Ceccardi, 42,5%, a mezzo punto di distanza dal candidato del PD Eugenio Gianni, 43%. Oggi, invece, arriva il sondaggio dell'Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Anche secondo questa analisi elettorale il gap è molto ridotto, tra la leghista e l'uomo del PD, infatti, balla l 1,1%. La stima dei consensi ai candidati vede Gianni al 42,6% e Ceccardi al 41,5%, nelle intenzioni di voto ai partiti, però, il centrodestra supera il centrosinistra, 42,9% a 40,2%. Il primo partito in Toscana è il PD, con il 29,5%, inseguito dalla Lega al 22,9%. Dunque, Fratelli d'Italia al 14,1%, mentre il Movimento 5 Stelle non andrebbe oltre al 9,1%, la candidata grillina Irene Galletti, infatti, viene registrata al 9% tondo tondo. Dunque, Forza Italia al 4,9% e Italia è viva, insieme a Europa, al 48%. Interessante, infine, anche l'analisi dell'Ipsos per il Corsera sulla tornata in terra Ligure, Giovanni Toti, stra, vincerebbe la partita contro Ferruccio Sansa e il candidato unico dei giallorossi con il 57,4% dei voti, il suo spidante si fermerebbe a un deludente 34,8%. In Liguria è la Lega la prima formazione politica, con il 21,1% dei favori. Alle sue spalle, sfiora il 20% la lista Cambiamo. Di Toti, che si porterebbe a casa il 19,8%. Dunque, al 16% il PD e al 9,7% il M5 SFDI, invece, si attesta al 9,4%, mentre Forza Italia al 6,3%. Grazie a tutti.